... il mio step, invece i bis step, cioè i biscotti, le tante, le tante. Ecco, questa ha un aggiornamento blanco, questa è scura? Vi sta bene? Me lo faccio un po'. Adesso è l'occhio, eh? Messa, bravissimo. Se era più, quel tabiano va bene? Se era proprio che nemmeno presta e non posso mai sapere. Io non mi leggo, giusto? E ora, se la foto per la tua carta sarà blu, giusto? Io penso sia la carta bionda, giusto? Un po' non c'ho lì. Non si può stare a vedere qui dentro, no? La carta bionda è una carta bionda che ha un colore di fiori, ha un colore di fiori, giusto? Aspetta, sta lì bionda. Com'è la carta bionda? Mi ripeti Stefani, che gloria di schiava! Ma ti facciate qualcosa? Lui mi si sa, no? Sì? Ma ti facciate qualcosa? Ma ti facciate qualcosa? Sì? Ma ti facciate qualcosa? Ma ti facciate qualcosa? Ma ti facciate qualcosa? Te lo spiego? Ma se sto spiegare un caldo? No, sto spiegare un caldo. Ma ci facciate? Ci racconta lui? Molto diplomatici! E' un caldo, ci facciate? E' un caldo! E' un caldo! E' un caldo! E' un caldo! E' un caldo, che è un caldo! E' un caldo! E' un caldo! E' un caldo! E' un caldo, e' un caldo! Ecco me, la cosa! Scusate, la cosa? Ok, adesso? Posso spostare? Ma non mi raccomando, ma non mi raccomando, ma non mi raccomando! Ok, io stai dobbiamo trattare così! tu stessa, tu ti metti a un certo punto, a un certo punto, a un certo punto, a un certo punto, a uno certo punto, che ti è la paranzia, tu stessa, la tua parte, tu metti in tifo, sulla carta, la tua parte, questa non la vuoi cambiare? Ok, adesso si provano bene. Guarda, tu non hai visto la foto? Prendi il tipo, prendila, 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 prendila e... Posso guardarla? Guarda la traccia. Vista? Va bene. Ok, ci sei? Tu lo vienes a fare, non ti sei? Mi fai qui? Grazie, grazie. Guarda la traccia. 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 Quanto si, guarda la traccia. Si, guarda la traccia. Ok, il soebre è di una traccia. Allora, questo è un problema difficile. Quindi, questo è un problema, giusto? Esiste un problema, un taglio, un ragazzo, un ruolo, un ruolo, un ruolo, un ruolo. E' un problema, è un problema. E' un problema. E' un problema. Ora, via, qui sta... Basco, basco, basco! Ok, ci sei? 6, 7, 4, 5, 5... Per 10, vero? Giusto? Grazie! Tutti, 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 tutti fiori, tutti fiori, mera, tutti fiori, fiori, giusto dieci fiori? Ehi, grazie, grazie, dove siete? Allora, vieni alla casa, se ne piacerebbe, sicuramente, vi aspetta un po' di mia sottombra, non mi metto, ehi, signorini, mi piacerebbe, se Stefano, posso trovare un secondo solo marchio, posso un secondo solo, un secondo rosso, posso? Pallleson, ma la benfib reflects, e una parte cortesia, tutti stendo così, e poi dovrest Joey jobs in buro mente, ok? Vai! Questa la vuoi cambiare? Sì, qua. Se la vuoi, dislargetti dal mondo nella tua realità, giusto? e non so, non so, tu sai che per questo è possibile, è possibile, potrebbe essere la sua unità, ma sarà uguale su questo, è possibile in realtà di cui sei d'accordo, ma in unicelle esperienza che io si parla di ciò, esiste un'unica e un'unica, non è capitato, ma è possibile, se io sei un'unica, il lato, il lato, se tu non che non ho senti, non è continuo parlando ho gli errori, cancina l'unica e gar that's attenzione grazie grazie scusate se vi ho distrutto sono 50 ragazzi che forte che gentile che sei allora allora questi signori stanno ingerendo giusto e mi ricordo allora siamo di nuovo qua semplicemente adesso facciamo il mondo di manipolazione tu non ci dai la viva ok guarda semplicemente questo manipolazione giusto che però ma sono complessa questa mano no però concentrato ok allora stiamo avanti passiamo ecco qui su allora tu dici giusto questa velocità non c'è allora non c'è non c'è non c'è giusto però prenderò altre cose non c'è allora 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 hai visto? hai visto? guarda sei 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 quello che viene dal cuore giusto? hai detto sei tu stai toccando stai ero sei sei fossero inserì non c'è sarebbe ecco ok, tu stesso, con un'altra, sei ti sono parlato del piatto ok, vai, c'è uno due, tre, quattro, cinque percafiamo il piatto se non è sei, cosa dicevo? cinque di quattro cinque di quattro, ti va a segno ok, c'è l'altro wow dai dai, che è che lo fico allora, allora il segreto è qua siete un po' autistici che simbatico allora ti faccio vedere una cosa più interessante io prendo le carte, giusto? pensi a nulla veloce che veloce nera, picca tu sei la parte malata del cielo ascoltami qua io qui ho una parte di cipoli pinte, giusto? e la cipoli pinte ti va bella? e la cipoli pinte come scusa? sì quattro più tre, quanto fa? è interessante però aspetta, aspetta no, è certo e sette di pinte grazie grazie grazie